Immagina due cavernicoli che sono nell'era glaciale, un freddo bestia, nell'era cavernicolosa, non so qual era, forse sono lì e hanno un freddo barbelloso e uno dice all'altro Sarebbe bello però avere una roba che semplicemente la metti lì e ti scalda, fa caldo, e ti metti lì tranquillo, come si fa, come si fa, e mentre lo dice, dal cielo cade all'improvviso giù una stufa elettrica, autosufficiente, non c'è bisogno di corrente elettrica, di presa, niente funziona da sé e in più viene giù anche un portatile, con aperta la pagina di Google già la ricerca sul risultato pronto, come accendere questa stufa elettrica, c'è solo un bottone dietro che devono cliccare, basta, per il resto hanno il caldo per tutta la loro vita, senza nessun altro problema. Allora, secondo voi, quanto ci metterebbero, numero uno, a capire che quella è una stufa, è la soluzione a tutti i loro problemi, caldosi. All'altro lato, come si fa a accendere quella stufa? Che c'è un bottone a cliccare. Quali sarebbe la loro reazione in generale? Di due cavernicoli, guardano sto oggetto e prima, lo so, gli do una martellata, una randellata, taglio il botto, il totem del demonio. Insomma, i nostri due amici cavernicoli sarebbero lì con la soluzione davanti, ma sempre concentrati a parlare del problema. E l'ha riassunta bene, ancora una volta, il solito Naval, che ha detto, non so, su Twitter o dove le dice lui ste cose, se sei un cavernicolo, niente è una risorsa, per te niente è utile, perché non sei in grado di capire, di avere la conoscenza per utilizzare quello che è intorno. Se a me, che sono incapace a cucinare, date una cucina straordinaria, perfetta, tecnologica, tutti gli ingredienti precisi, la ricetta di Eston Blumenthal, con Eston e Massimo Bottura, che mi sussurrano qua nell'orecchio, Davide Uldani di qua, e Uliassi davanti, che mi dice, dai Monti ce la fai, ce la fai, e mi dicono esattamente cosa fare. Io qualmente non riuscirei a cucinare. Sono un cavernicolo della cucina. E allora, morale della favola. Ogni volta che mi ritrovo davanti a questi problemi, sul lavoro, che sembrano così insormontabili, chiedo spesso, sono problemi dovuti alla concorrenza, alla competizione, alla sfiga, ai governi, alle tasse, a che cosa siano dovuti a questi problemi. O magari, sono problemi che non riusciamo a risolvere, non riesco a risolvere, soltanto perché siamo dei cavernicoli.